Buongiorno mi presento sono Massimo Masini e sono uno dei contitolari della Impel SNC di Masini Bruno EC. Ci troviamo a Percotto in via Aquileia 87 e siamo nel centro del paese. La ditta nasce nel 1984 con l'intento di offrire ai propri clienti un servizio curato e garantire puntualità e serietà nell'esecuzione dei lavori. La nostra ditta è nata all'inizio con mio padre e mio fratello poi negli anni si è sviluppata. Realizziamo impianti elettrici, elettronici, automazioni, qualsiasi tipo e natura. Impianti anti-intrusione, rivelazione dati, reti cablate, impianti tv a circuito chiuso, impianti per l'automazione dei cancelli sia per quanto riguarda i residenziali che i condomini. Cerchiamo per quanto possibile di dare ai nostri clienti un servizio completo in modo che il cliente possa essere contento. Nostra intenzione, nostro scopo è cercare di, quando si fanno gli impianti, di vivere la casa come se fosse una casa nostra, non prendendo e dando per scontato solo quello che c'è scritto sul progetto. Facciamo anche impianti di media tensione, impianti di ispirazione centralizzata e rivelazione incendio. Abbiamo un magazzino che ci permette di dare un servizio ampio, abbiamo la licenza per fare vendita anche al minuto, quindi anche il privato può venire in negozio da noi e fare acquisti direttamente. Collaboriamo anche con altre aziende e questo ci permette di ridurre eventuali tempi di attesa nell'esecuzione di progetti o di prodotti fuori dallo standard o che non sono comuni.